Torna al lavoro la pallavolo Pineto e non deve essere semplice ritornare sulla beffa di domenica per preparare la sfida che verrà. Conte ritrova i suoi, obiettivo cancellare le scorie di un 2 a 3 arrivato quando il più sembrava fatto. E invece Mantua ci ha creduto fino in fondo e alla fine ha portato via la vittoria al tie-break. Che cosa sia successo al rientro dal secondo parziale prova a spiegarlo lo schiacciatore Juan Jose Cuda. Cuda domenica con Mantua era cominciata bene, poi che cosa è successo? Poi è successo che comunque abbiamo dato tanto i primi due set e quindi comunque un caldo è normale che ci sia stato. E allora devo dire che è anche stato merito loro che hanno iniziato a giocare della gran pallavolo, quindi è stato un po' difficile riprenderli. Però io penso a parte quel terzo set lì la partita è stata abbastanza commettuta anche gli ultimi due set. Quindi ci sono delle cose da salvare e altre cose da lavorarci su. Quindi da oggi ricominceremo a lavorarci su per vedere domenica tirare fuori qualche punto. Magari se facciamo uno di questi tre punti siamo sicuri che facciamo un play-out. Almeno un punto recuperato su Gela, quello sì. Beh, quello è importante. Adesso come adesso facciamo il play-out. Adesso bisogna vedere i risultati di Gela ma soprattutto i nostri. Noi adesso domenica abbiamo un'altra opportunità, soprattutto che giochiamo in casa. Ultimamente in casa stiamo facendo discretamente bene, quindi le possibilità ci sono. La squadra comunque dopo la sconfitta ha raggiunto abbastanza bene, quindi già abbiamo parlato tra di noi nei spogliatoi, abbiamo capito quali sono stati i problemi, quindi adesso lavorare basta. Grazie. Grazie. Grazie.